Emanuela, tutto pronto per il SaaS Forum Milen? Ci siamo quasi. Quest'anno tantissime novità. Parleremo del futuro degli analytics, parleremo di Internet of Things, di Industria 4.0, Machine Learning e anche di intelligenza artificiale. Interessante, dimmi di più. Avremo tantissimi ospiti, anche internazionali, le aree demo, dove i nostri partecipanti oltre 2000 potranno fare networking e soprattutto quest'anno avremo un artista cyborg in grado di sentire i colori. Quindi sul palco al tuo posto ci sarà una macchina? Eh, può darsi, può darsi. Ma vi aspetto tutti l'11 aprile al Mico Fiera Milano. Buona questa.